Presidente Daniele Sebastiani, a che punto è il calciomercato anche alla luce del prossimo appuntamento, il primo di questa stagione? Ecco, Bocchetti è già in città? No, noi stiamo finendo di fare quelle operazioni che dovevamo fare, che avevamo già in mente. Speriamo di vedere velocemente l'attaccante qui a Pescara, con il quale abbiamo raggiunto l'accordo che è Asenzio e mi auguro tra oggi e domani di averlo qui. Per quanto riguarda il difensore c'è questa possibilità, ma vedremo nei prossimi giorni. Se ci sarà possibilità di tesserarlo è un giocatore che a noi sarebbe un bel valore aggiunto, insieme a quelli che abbiamo, perché non ci dimentichiamo che noi non siamo messi malissimo, anzi siamo messi anche bene, perché per Scogna, Miglio e Drudio per la categoria sono due garanzie, perché abbiamo dei giovani dietro loro che sono bravi e sicuramente uno come Bocchetti ci darebbe un'ulteriore mano per fare un salto di qualità. Con il Benevento ci sono rapporti straottimi, quindi se ci sarà la possibilità di fare dei giocatori con loro non saranno sicuramente problemi. Si parla anche di Fernandez? Fernandez è una di quelle operazioni che di tanto in tanto facciamo con la Juve, è un giovane 99 che può fare il viceval di Fiori, che è un giocatore che a noi può servire. Altre due domande, si parla anche di un ragazzo, un giovane ragazzo, questo Gutt dall'Atalanta, era un nome finito sull'agenda del Pescara Calcio, c'è una trattativa avviata? No, Gutt, lo stiamo solo aspettando e credo che fra un po' di giorni sia Pescara. E poi l'attaccante, parliamo sempre di questo nodo cruciale della Pescara Calcio negli ultimi anni, suggestione Pazzini? Assolutamente no, abbiamo Seterra, abbiamo raggiunto l'accordo con Asensio, abbiamo due giovani nostri, quindi se giochiamo con una punta non so quanti attaccanti dobbiamo prendere ancora. Parliamo di questo progetto importante della Pescara Calcio, questa nuova sponsorizzazione, questo nuovo main sponsor, che poi è diverso da quelli degli altri anni, perché qui ci sarà un progetto che unirà le due forze, sia quella dello sponsor che quella della Pescara Calcio. E' la cosa che mi è piaciuta di più, perché intanto il progetto era partito al di là della sponsorizzazione che non se n'era mai parlato. Poi l'ingegnere ha voluto legare il nome al nostro club anche dal punto di vista della sponsorizzazione, sono stato contento, ma soprattutto sono contento per quello che è il progetto che c'è dietro, che ci consentirà. Noi è un progetto che avevamo già avviato in casa, tra virgolette, in modo artigianale, loro sono dei grandi professionisti in questo ambito e ci aiuteranno sicuramente a farlo per bene. Chiudiamo con la notizia della riapertura degli stadi, per ora solo mille persone, sicuramente si andrà a suo invito, c'è la volontà però di lavorare e continuare almeno a riapportare degli abbonati allo Stadio Adriatico. Ma io, dicevo a qualche tuo collega, io non sono assolutamente d'accordo con questa riapertura a mille persone perché sarà solo un motivo di discussione e solamente un altro motivo per prendere critiche da quelle che amano i colori di ogni società. Per me, se si deve riaprire, si può riaprire ad una percentuale con le giuste misure di sicurezza perché uno stadio come Pescaro credo che aprire a 4-5 mila persone non sia un grande problema. ma chiaramente tutti devono sapere e si devono assumere le responsabilità che vengono allo stadio e devono sapere che ci sono le misure di sicurezza. Però credo che riaprire uno stadio come Pescaro, come tanti altri, cioè vedere San Siro con mille persone mi viene da sorridere.